Allora cosa mi lascia? Sicuramente sono liberato di un peso molto grosso ma non tanto per tutti quelli che mi dicevano no devi vincere, devi vincere, ciò come va a vincere, è quello che, ahimè, giornalisti o comunque in generale è giusto che dicano così, un peso più per me stesso, avevo questo obiettivo, questo sogno nel cassetto che era di vincere un oro e ce l'ho fatta, quindi posso ritornarmi finalmente un po' contento di quello che ho fatto fino adesso, l'avete cambiata ma sì, forse ti salvano di più, vai a fare più giornate, ti chiamano, però alla fine io quando torno a Verona a fare il mio lavoro e fare casa e piscina in realtà cambia veramente poco rispetto a quello che ho sempre fatto.